Io ho il pollice verde da ormai due anni e avevo delle piante in vaso e allora con qualche mio amico vedendo quest'area degradata mi sono organizzato e ho detto ma perché queste piante che ho in vaso non le andiamo a piantare in quest'area e la aggiustiamo, ci facciamo qualcosa di carino. Un angolo di terra abbandonato dove fino a due anni fa dominavano solo erba incolta e rifiuti si è trasformato in un piccolo giardinetto verde con alberi e piantine grazie all'impegno e alla premura di un ragazzo di appena 15 anni, lui è Marco Pallone, studente al secondo anno dell'istituto professionale Perotti di Trigiano, la mattina siede tra i banchi di scuola per frequentare le lezioni, nel pomeriggio e nel weekend invece munito di guanti e rastrello si prende cura dell'aiuola di via Martino Cassano nel quartiere Picone, a due passi da casa sua. Con il passare del tempo insieme al suo gruppetto di amici è riuscito a far rivivere l'aiuola comunale ma come spesso accade, olio di gomito e attività di volontariato non sono sufficienti ed è qui che entrano in gioco le istituzioni. Il presidente del primo municipio, Lorenzo Leonetti, colpito dall'appello di Marco sulla creazione di una colletta di comunità per acquistare attrezzature professionali come un vero tagliaerba, ha già ricevuto proposte da parte di un'azienda barese interessata al progetto che possa aiutare i giovani volontari. Ho paventato l'ipotesi di diventare un partner nel progetto di Marco, ossia la loro idea è quella di sistemargli questa aiuola in modo adeguato in funzione di quelle che sono le condizioni migliori per poterla anche successivamente manutenere con più facilità e quindi avviarli, impostargli l'aiuola e poi Marco se ne prenderà cura. Dico ai cittadini e alle istituzioni di sostenerci, magari con nuovi materiali, con delle collette, con un nuovo tagliaerba, ma in tutti i modi di sostenerci. I passanti incuriositi continuano a fermarsi per ammirare il lavoro di Marco e dei suoi compagni e a complimentarsi. Lui con fierezza risponde di essere ancora minorenne ma di avere già le idee chiare sul suo futuro, diventare un bravo giardiniere. Come lo chiameresti questo giardino a lavori terminati? Allora, questo giardino ha già un nome, l'ho chiamato giardino dei tempi, proprio perché ci siamo stati molto tempo a lavorare qui, ci teniamo molto.